salve a tutti e bentornati in questo nuovo ragazzi in questo nuovo vi spiego come risolvere così i problemi riguardo al crash sul gioco bodygum lo sparatutto ultra realistico un gioco veramente fantastico ma per quelli che hanno avuto problemi con la grafica oppure per quelli che hanno problemi proprio di lag come me con la 1660 super che sto laggando veramente di pari che laggando ho fatto pure ci sono stati anche dei crash quindi 2-3 volte di crash sul gioco bodygum quindi ho risolto aggiornando driver della scheda ho risolto giocando non a schermo senza bordo in finestra basta che abiliti lo schermo intero e attivi v-sync ovviamente andiamo un attimo sul nostro programma che usiamo per aggiornare la nostra scheda grafica come puoi vedere qui c'è quello di AMD qui c'è quello di Nvidia e poi qui c'è quello di Intel e poi ci sono gli altri driver come per esempio Microsoft Visual C++ dal 2015 fino al 2022 tutto in descrizione andiamo a cliccare su Visual Studio 2015 scarichiamo e installiamo tutti e tre l'architettatura qui questa qua tutti i driver scarichiamo questo scarichiamo quest'altro una volta fatto andiamo sul nostro desktop prendiamo così i nostri tre driver esegui come amministratore accettiamo i termini facciamo installa stessa cosa anche con l'altro ripristino perché io ho già installato questi driver però per farti vedere come fare ripristina il pacchetto di installazione non sopportato al tipo di processore questo lo possiamo anche ignorare e aspettiamo questi altri due poi una volta aggiornati i driver così della tua scheda del tuo sistema operativo devi per forza riavviare il computer mentre sta facendo così questa installazione andiamo un attimo sul nostro app data quindi andiamo a scrivere esegui qua su esegui vai a scrivere per cento app data per cento vai su app data qua local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella bodycam ed eccola qua save web cache cancella la cartella web cache config crash report client cancella la cartella crash report client e svuote il cestino è necessario avviare il computer come ti ho detto una volta scaricato installato e aggiornato devi riavviare il computer facciamo chiudi lo riavvio più tardi ora passiamo direttamente ai driver della nostra scheda grafica io ho una scheda grafica nvidia 1660 super quindi vado a scaricare i driver per nvidia ovviamente questo è il nvidia app dove io posso configurare la mia scheda e aggiornare i driver scarico così la beta installo e comincio poi a vedere se ci sono aggiornamenti quindi nvidia app eccola qua driver rilasciati il 4 di giugno e devo fare un aggiornamento driver studio drive game ready mi dice reinstalla io ovviamente ho già installato i driver grafica andiamo così ad aggiungere il nostro programma bodycam se non lo tieni qua vai aggiungi programma bodycam.exe ecco bodycam modalità bassa latenza metti ultra frequenza fotogrammi massimo metti fino a 1000 fps compatibilità gsync adattivo usa l'impostazione dell'applicazione metti veloce la scheda grafica inserisci così la tua scheda usa queste gpu e quest'altro qua invece brillantezza dinamica retracing se è attivo è aumentata anche la nitidezza la saturazione laca ancora di più e può avere problemi di crash disattivato e faccio applica stessa cosa anche con amd cerchi così il tuo driver qua grafico processore chips lo cerchi qua e lo scarichi stessa cosa che con intel scarica adesso il tuo driver per intel come ultimo aggiornamento qua come ultimo driver da scaricare il web installer directx and user runtime seleziona lingua italiano metti scarica non accetto il contratto no accetto il contratto se non possiamo fare niente installa bing toolbar che è un motore di ricerca che non ci serve facciamo avanti e installiamo il driver fine una volta fatto quello che ci resta da fare è entrare direttamente nel gioco e modificare alcune impostazioni ed ecco il nostro botica vado direttamente su settings video passiamo direttamente a display bordless mettiamo full screen questa è la risoluzione mia display solution metti nini aspetto vai sul 75 metti sul 75 qua fps bloccati v sync metti on e fai applica scendiamo scendiamo fino a giù fino a trovare grafica mdfs r3 metti off questo non lo posso usare lo scendo fino a giù fino a trovare gli ultimi tre qua metto on e metto on anti heliosi metto fx doppia questo mi ci metto su off tex sur metto su meteo questo vediamo se lo posso mettere numero fa metto e basta diciamo che gli fps sono un po' aumentati in alto a sinistra c'è il contatore di fps sui 47 48 fps 50 e 57 fps anche per non avere problemi distrappi frame lag e crash quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video se ti scontri altri problemi di crash o errori riguardo alla scheda grafica su pod commenta sempre sotto al video cercherò di realizzare altre guida riguardo su bodycam iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo ciao